Ci si avvicina all'appuntamento elettorale, il Presidente Zaia sembra avere i consensi in maniera netta. Lei però ha vissuto in minoranza questi cinque anni, questa legislatura. Quali sono i talloni da kill eventuali del Presidente Zaia, sui quali si potrebbe lavorare per ottenere un peso politico importante, anche se in minoranza apparentemente? Beh, innanzitutto maggiore prospettiva, maggiore investimento strategico. La Regione dovrebbe avere un ruolo di regia e di coordinamento rispetto alle politiche territoriali delle varie province. E quindi una capacità politica della Regione di incidere molto di più anche sulle scelte strategiche, gli asset strategici del Veneto. Penso per esempio alla politica sugli aeroporti, penso al tema della logistica che investe in modo particolare anche il nostro territorio veronese. Penso alla vicenda dolorosissima anche delle banche, anche di questa ultima vicenda di Cattolica, dove da veronese dico che la Regione dovrebbe fare sentire la sua voce politica. E poi un aspetto che ritengo fondamentale per i prossimi cinque anni, ci deve essere più Verona nel Veneto. Ci deve essere più Verona, perché Verona non è semplicemente il confine ovest della Regione, ma è una porta fondamentale da cui noi sappiamo, a parte i corridoi che conosciamo tutti, europei, ma la Lombardia si affaccia sulla Lombardia, si affaccia sul Trentino, l'area del Garda. Io credo che Verona debba ritornare ad avere un ruolo anche importante nell'agenda politica anche del Presidente Zaia e comunque della futura maggioranza in Regione. Ricordiamo anche la Lessinia, recentemente ci siamo stati, anche la Lessinia meriterebbe forse un po' più di attenzione. La Lessinia è una delle perle, dei patrimoni. Teniamo presente che nella legge sul turismo, nel piano strategico del turismo regionale, il tematismo proprio delle colline e nello specifico, in questo caso noi potremmo dire, del territorio della Lessinia, è uno dei punti cardine, uno dei punti di forza anche della offerta turistica. Noi pensiamo che la Lessinia non ha niente da recriminare o di cui vergognarsi rispetto, per esempio, a tanto altro territorio prealpino della nostra Regione. Ci sono le Dolomiti, c'è il Lago di Garda, c'è il litorale di Venezia, ma c'è anche la nostra Lessinia.